L'Irpinia si prepara a lanciare una campagna vaccinale anti-covid a partire da ottobre per gli over 65 le categorie considerate a rischio. L'approccio tradizionale degli hub vaccinali verrà abbandonato a favore di una nuova strategia che mira a raggiungere efficacemente gli aziani e gli soggetti fragili. Secondo quanto riferito dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitti, i vaccini anti-covid saranno somministrati in concomitanza con la profilassia anti-influenzale. Questo cambiamento si baserà sulla collaborazione con i medici di famiglia, le farmacie e i distretti sanitari, dove i cittadini potranno ricevere le iniezioni dei nuovi antidoti sviluppati da Pfizer, Moderna e Novavax, appositamente aggiornati per affrontare le ultime varianti del virus. Questa nuova campagna, in sintonia con la profilassia anti-influenzale, si sposterà dagli hub centralizzati alle farmacie e agli studi dei medici di famiglia, con l'obiettivo di garantire un accesso più agevole e diffuso ai vaccini, ha affermato così Sellitto. E' importante sottolineare che, nonostante l'abbandono degli hub vaccinali, le vaccinazioni rimarranno altamente raccomandate per gli anziani soggetti fragili, al fine di prevenire il rischio di nuove varianti del virus. L'idea di associare la campagna vaccinale a quella anti-influenzale è un passo in avanti nell'assicurare una protezione completa per le fasce più vulnerabili della popolazione. Da precisare che non ci sarà alcun obbligo vaccinale, ma una forte raccomandazione rivolta a determinate categorie sopracitate. Tuttavia, mentre si assiste a questa nuova direzione nella strategia di vaccinazione, è fondamentale mantenere la prudenza. Nonostante l'annuncio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, secondo cui il Covid oramai è finito, i recenti dati mostrano un aumento dei contagi e dei decessi, segnalando un possibile risveglio del virus. Inoltre, le nuove varianti come Kraken, Arturo ed Eris suscitano preoccupazioni tra gli esperti. L'incrocio autunnale fra influenza e Covid è considerato un potenziale scenario di rischio, soprattutto per le fasce fragili della popolazione. Il governo, pertanto, mantiene la capacità di adottare misure per contenere la diffusione del virus, pur eliminando le restrizioni di isolamento. In conclusione, l'Irpinia si sta preparando un nuovo capitolo nella lotta contro il Covid, con una campagna vaccinale che si adatta alle mutevili sfide del virus. La fine delle misure di isolamento e l'abbandono degli hub vaccinali segnano un passo verso la normalità, ma l'invito a rimanere vigile e adottare precauzioni rimane di fondamentale importanza per garantire la sicurezza di tutti.